A luglio, Demoscopica stima un tasso di inflazione turistica in aumento dello 0,8% su base mensile e del 4,1% su base annua. Crescono su base tendenziale i prezzi dei pacchetti turistici, dei servizi ricettivi e della ristorazione, oltre che ricreativi e culturali. Per contro risultano in ulteriore rallentamento i servizi di trasporto. La dinamica dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo turistico per l'Italia fa registrare a giugno 2024 su base annua un aumento del 4%, a fronte del dato dell'Unione Europea pari al 4,9%. Una dinamica dei prezzi del paniere turistico che colloca il bel paese al quarto posto, preceduto soltanto da Svezia, Francia e Portogallo. Sul versante opposto, a presentare un andamento dell'inflazione turistica più elevato sono Polonia, Paesi Bassi, Austria, Grecia, Germania e Spagna.